L'emergenza coronavirus ha messo alla prova il territorio e ha fatto anche emergere opportunità preziose come quella dello smart working, legata al fabbisogno di una infrastrutturazione digitale più forte e un sistema di welfare che ha visto il Morelli rinsaldare la sua vocazione di presidio di eccellenza. Ne è convinto il consigliere regionale Carlo Borghetti durante la tappa sondriese del tour Riparti Lombardia. Consigliere Borghetti, tutto in qualche modo ruota attorno al turismo per questo avvio più convinto di una fase 2 in provincia di Sondrio. Sì e questo ci fa dire che ancora di più Regione Lombardia deve insistere sul rinforzo infrastrutturale della Valtellina perché turismo c'è se c'è infrastrutture, quindi bisogna sfruttare al meglio le risorse che arriveranno con le Olimpiadi ma bisogna pensarci subito, oserei dire che il lockdown ci ha dato un ulteriore ritardo rispetto a quello che già avevamo e quindi bisogna al più presto fare un piano infrastrutturale che rinforzi la Valtellina ma oggi infrastrutture vuole dire anche digitale, vuole dire anche sanità, vuole dire tutto quello di cui ha bisogno una persona che vive o che viene per turismo in Valtellina. In particolare sul digitale abbiamo imparato durante questo lockdown che avere banda, avere collegamento è fondamentale, anche su queste infrastrutture digitali bisogna investire in Valtellina. La Valtellina deve pensare ad essere attrattiva per i turisti ma deve anche costruire un forte sistema di servizi per i propri abitanti partendo da scuola e sanità. Solo così, dice Dario Violi, si danno opportunità per chi qui vive e lavora. È giusto parlare di turismo e di attrattività di questo territorio perché ci vive e vive di questo però è evidente che abbiamo tanti ragazzi che vanno via a studiare che potrebbero far grande questo territorio diventare la classe dirigente e spesso si perdono in appartamentini nelle periferie delle grandi città perdendo anche la loro connotazione territoriale, il senso di comunità e qua si perdono delle risorse importanti. Quindi è evidente che per far rivivere questo territorio dobbiamo sfruttare l'occasione che ci dà lo smart working per lavorare in modo differente quindi stando vicino sul proprio territorio ma lavorando anche per aziende che hanno sede poi lontano. Dobbiamo farlo garantendo però dei servizi minimi. Penso educazione quindi una scuola di livello e i servizi sanitari di altrettanto livello che invece sono stati smantellati nel recente passato devono essere la risposta per chi vuole vivere qua. Io posso scegliere di stare nella mia palla e di far carriera nella mia azienda ma se ai miei figli non posso dargli una buona scuola e alla mia famiglia in genere non posso dare una sicurezza sociosanitaria è evidente che sceglierò di andarmene.